Il sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, ha compiuto nei giorni scorsi un tour all'interno dell'ospedale Iannelli per constatare di persona e denunciare lo stato in cui versa la struttura sanitaria. Siamo al collasso, ha dichiarato Aieta al termine dell'ispezione, a causa del sovraccarico di pazienti determinato dalle chiusure di altri ospedali come Praia Mare e San Marco Argentano. In particolare, ha aggiunto, il pronto soccorso sta scoppiando, con più di 15.000 prestazioni fino ad oggi assicurate. Le rimostranze del sindaco di Cetraro sono rivolte in particolare al direttore generale dell'ASP di Cosenza, Gianfranco Scarpelli, cui è toccato il compito di riorganizzare la rete ospedaliera del territorio in ossequio ai dettami del piano di rientro dal deficit sanitario varato dalla Regione Calabria. Il direttore generale, ha dichiarato Aieta, ha da poco visitato l'ospedale di Cetraro e spero abbia colto il grado di sfiducia crescente e dilagante tra gli operatori. È necessario, ha proseguito Aieta, un atto di responsabilità per rimettere realmente ordine in un comparto delicato come la sanità del Tirreno Cosentino. Qui il paragone del primo cittadino cetrarese è con quanto avvenuto sul versante ionico della provincia di Cosenza. La logica che guida le riorganizzazioni ospedaliere in tutta Europa, detto Aieta, prevede che attorno alle rianimazioni non si crei un deserto operativo come è avvenuto sul Tirreno, dove si sono assunte decisioni contrarie ad ogni logica di cui il direttore generale si assumerà ogni responsabilità e su cui non abbiamo intenzione di indietreggiare di un passo. La situazione più delicata pare essere quella di chirurgia. Il reparto, ha raccontato Aieta, opera in condizioni strutturali da terzo mondo nonostante la grande umanità dei medici e del suo dirigente. Non va meglio per radiologia, dove la strumentazione è descritta come obsoleta o addirittura assente. Tacche e risonanza magnetica, ha dichiarato il sindaco di Cetraro, sono spesso fuori uso, manca l'ecografo e a fine anno il personale addetto andrà in scadenza di contratto. Non si comprende poi perché, pur essendo presente una neuroradiologa, non si attraccia del reparto di neurologia previsto nell'atto aziendale. Per il resto, il tour del sindaco di Cetraro tra i reparti degli annelli ha evidenziato una lunga serie di problemi. Oltre alle carenze di posti letto e di personale ascensore fuori uso, anche la sistemazione in spazi non idoni di alcuni reparti, come nel caso di psichiatria. Qui, a rilevato Aieta, mancano 10 dei 16 posti letto promessi e operano due soli medici. Molti pazienti si rivolgono fuori regione e le spese per aspe comune aumentano. Altro reparto in piena emergenza sarebbe l'area funzionale omogenea. Solo 10 posti letto, ha constatato Aieta, validi anche per pazienti con problemi cardiologici.